Buongiorno a tutti, siamo qui al Ministero della Salute, siamo il gruppo delle associazioni che ha promosso la seconda conferenza di consenso sulle gravi cerebrovisioni acquisite. È stato un lavoro di oltre due anni, che ha coinvolto oltre 30 associazioni aderenti alla rete, capofila di Amici di Luca, alla FNAT, Capitulazione Nazionale delle Associazioni di Traumacranici, e che ha visto una giuria multidisciplinare formata da clinici, da giornalisti, da professionisti del mondo sociosanitario che ha lavorato e ha elaborato un documento di raccomandazioni che è stato poi sottoposto ad una serie di stakeholder che fanno parte dei nostri patrocinatori, dalla FIASO, alla FNAT, alle aziende US di Bologna, all'Università, all'INAIL e a tanti tanti altri. Il tema di oggi è un tema che sta a noi molto a cuore. Noi negli anni passati siamo stati nel seminario permanente del Ministero della Salute e questa è una richiesta che anche oggi chiediamo al Ministro appunto di poter riattivare un tavolo. Abbiamo l'idea di un osservatorio nazionale sulle gravi cerebrovisioni che vorremmo costituire e quindi vorremmo in qualche modo diventare ancora interlocutori di questo percorso molto particolare. Oggi è una giornata molto significativa, è l'undicesima giornata nazionale degli stati vegetativi, una giornata che ricorda Eloana Inglaro, la sua vicenda, ma anche le migliaia di persone in stato vegetativo oggi in Italia, i loro familiari e le associazioni come le nostre che le rappresentano e fanno in modo di poter tutelare i loro diritti e i servizi che queste persone devono avere in ogni area geografica di riferimento. Ringrazio molto l'Onorevole Sandra Zampa che è qui con noi per dare un saluto e la presidenza del Ministro Roberto Speranza e a lei do volentieri molto la parola. Grazie. Molte grazie. Grazie e benvenuti. Benvenuti davvero. Nel prendere la parola ovviamente e soprattutto mi sta a cuore rivolgervi il saluto del Ministro Speranza e anche la certezza, diciamo, il segnale dell'attenzione che questo Ministero dedica a questa problematica così dettagliatamente illustrata nel documento che oggi voi presentate e che riporta gli esiti della conferenza di consenso delle associazioni sulla grave cerebrolesione acquisita. Un documento conclusivo di un percorso che vi ha visto molto impegnati con anche credo una passione e un coinvolgimento molto preziosi che sono perché si trasformano un po' nel motore dei cambiamenti che è quello che voi cercate o delle nuove acquisizioni che è anche quello per cui voi lavorate. Ritengo appunto altamente significativo che siamo qui oggi nella data in cui cade la giornata in cui vengono presentati gli esiti della conferenza. Il lavoro che fate, come vi ho appena accennato, diventa patrimonio comune e ci permette di ascoltare e permette a questa istituzione di ascoltare i bisogni, facendo anche tesoro delle esperienze di chi vive in prima linea, siano essi professionisti, famiglie, volontari e ogni paziente con la sua specifica storia clinica, personale, sociale e relazionale. Infatti la riflessione che mi esorta attiene proprio la necessità di sostenere, come peraltro sottolineate nel vostro documento, un approccio multidisciplinare e sistemico alla materia. La condizione delle persone in coma, in stato vegetativo, di minima coscienza, rappresenta una delle forme più estreme di disabilità, protetta dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata anche dall'Italia. Come sapete si tratta di diritti che vengono di fatto proclamati, ma che devono anche essere, diventare base di diritti esigibili, concretamente esigibili. E sappiamo che questo richiede un cambiamento culturale, motore reale di approcci solidali, rispettosi e partecipativi. Il cammino che avete avviato molti anni fa, quando si è tenuta la vostra prima conferenza nazionale di consenso, se non vado a rata, 6 ottobre 2012, con il patrocinio anche di questo Ministero, li trova oggi, credo, più forti, più compatti, più consapevoli e anche alleati, quindi preziosi, delle istituzioni e dei presidi di cura. Non entro nei dettagli del documento, sia perché, come dire, non ho le competenze per farlo, ma soprattutto perché questo documento sarà ottimamente illustrato da chi ci ha lavorato direttamente. Voglio però soffermarmi su alcuni temi che credo sia necessario esplorare e supportare da subito. Mi riferisco in particolare all'uso della medicina narrativa. L'approfondimento sull'analisi del caregiver, ruolo prevalentemente femminile e spesso femminile di età avanzata, attraverso progetti di ricerca specifici accompagnati da misure di sostegno economico ed emotivo. La persistente disomogeneità a livello regionale dell'applicazione delle normative nazionali sulla limitazione e interruzione della terapia e su questo tema della disomogeneità però devo dire che, come voi certamente sapete e potete constatare, non riguarda solo questa materia, riguarda in veste un po' tutta la questione della salute e dei parità di diritti, quindi di uguaglianza nell'accesso. In ogni caso, questa disomogeneità richiede un approfondimento anche nell'ambito della ricerca, attivazione di strumenti amministrativi che possano rendere concreti gli avanzamenti che la ricerca compie. In questo quadro l'attuale visione di sistema sanitario che il Ministero della Salute sta promuovendo, che vede la medicina di comunità e di prossimità, torna molte volte per fortuna di nuovo questa parola comunità, ecco, comunità e prossimità, motore centrale del benessere e della cura, vede anche nel campo di cui ci stiamo occupando oggi un ruolo determinante del sistema di cure integrate che si muove intorno al paziente. Questo sistema, che deve essere reso vivo, attivo, è composto da diversi professionisti sanitari, servizi sociali, reti territoriali di volontariato e terzo settore. Un insieme, diciamo, di voci, di competenze che risultano fondamentali per limitare la disabilità e il suo impatto sui pazienti, prima di tutto, e sui familiari. In questo e con questo, con questo semplicissimo saluto, vi auguro davvero buon lavoro, vi ringrazio molto di quanto avete fatto sinora e vorrei farlo davvero in modo non retorico, grazie per il vostro impegno, che è certamente per l'istituzione un importante stimolo a recepire e cambiare con la fatica che questo comporta, ovviamente, quindi anche a volte ci si sente quasi bisogno di scusarsi se le cose non vanno veloci come bisognerebbe, forse si dovrebbe, ma certamente atteso fuori dalle istituzioni. Grazie e buon lavoro. Io mi assenterò un po' prima perché poi ho anche un colloquio con una persona tra voi. Grazie. Grazie onorevole Sandra Zampa per le sue parole di riflessione, di incoraggiamento e anche di prospettiva. Ecco, do la parola allora a Paolo Fogar, che è Presidente della Federazione Nazionale di Situazioni di Traumi Cranici. Buonasera, grazie all'onorevole Sandra Zampa per la sua presenza. Porto i saluti e i ringraziamenti delle oltre 20 associazioni che aderiscono alla Federazione Nazionale di Situazioni di Traumi Cranici, che per il momento mi onoro di presiedere. Abbiamo appena concluito la seconda conferenza di consenso e abbiamo visto che molte cose da prima conferenza di consenso ci sono ripetute e sono rimaste ancora in evase. Questo non è un problema. Questo può essere un problema se non riusciamo a ripristinare il dialogo con le istituzioni. Perché in Italia, nonostante l'impegno delle associazioni familiari e una casistica di oltre 22.000 persone che ogni anno sono colpite da lesioni cerebrali, tra cui stati vegetativi e minima coscienza, qualcuno ci definisse ancora gli invisibili. E questo anche da parte del Ministero, non solo da altre persone del mondo scientifico che forse quelle meno, perché ci conoscono e sanno quali sono i nostri tormenti e i nostri patiboli come famiglie. Però anche dal Ministero. Quindi vorremmo sfatare questo essere invisibile. La verità sta forse nel fatto che i nostri cari che sono colpiti dal danno cerebrale, purtroppo molte volte e più delle volte non si possono rappresentare davanti alle istituzioni. Compronto ad altre patologie che il paziente si presenta davanti al Ministro, va in piazza a fare manifestazioni, si lega ai lampioni e fa le cose che può fare. I nostri no. Perché i nostri sono persone che oltre ad avere problemi di deambulazione, forse quello in meno, ma hanno problemi cognitivi, comportamentali e di conseguenza tutta una serie di problematiche che non risolve. Difatti c'è anche un grosso problema. È stata fatta la legge delega della disabilità. Noi che aderiamo alla FIS siamo intervenuti, perché in quel momento in cui la legge delega veniva fatta, si parlava dell'autodeterminazione. Per fortuna siamo riusciti a far capire a chi, ai componenti della FIS, che sono molto più avanzati di noi in certe cose, che per noi l'autodeterminazione non è che non esiste, però deve essere riportata a chi? Al familiare. Perché uno che ha problemi cognitivi, manca memoria, dal momento dell'incidente tutto quello che era prima non si ricorda. Ma il progetto di vita come si fa? Su tutta la sua vita. E quindi è necessario che il familiare partecipi a questo progetto di vita. Quindi siamo riusciti, convincersi a Grifo che a Falabella, di inserire una dicitura in modo tale che la famiglia partecipi a questo progetto. Oggi noi siamo qua, familiari, con la speranza che è cambiato un ministro. C'è, è venuta lei, e la ringraziamo, non è la zampa, che io mi sono letto un po' tutte le cose che ha fatto, e da anni nel campo che lavora anche sulla sanità. Però soprattutto noi siamo venuti qua per rimarcare le richieste che avevamo fatte. Noi, come ha detto Fulvio di Negri, avevamo un tavolo col ministero, che è andato avanti e è riuscito a produrre qualcosa. Era il tavolo fatto ad hoc per gli stati vegetativi, in quel momento di Eluana. Però siamo riusciti, quella volta, a cosa? A far sì che venga fuori un decreto con le linee guida per l'assistenza delle persone di stati vegetativi. Allora noi chiediamo, non si può parlare a distanza, bisogna mettersi attorno al tavolo. Bisogna attorno al tavolo avere, oltre ai familiari, quelli che sono le società scientifiche e gli operatori che lavorano in questo campo. Perché soltanto così, assieme, si riesce a spiegare, visto dalle varie figure, quello che sono le nostre problematiche. E non le risolveremo tutte una volta, però ci sono dei paletti da mettere. Noi avevamo chiesto anni fa un registro per le gravi televisioni acquisite. E lei sa meglio di me cosa è un registro e cosa serve. Allora, facciamo almeno, cominciamo a partire. Convochiamo, chiediamo al ministro, chiediamo al ministro da parte nostra, tutti quanti, che apra sto tavolo. La pandemia, per fortuna, da come dice il ministro, sta scemando. Tenendo sempre le mascherine, tutto orrendo. Io sono di quelli che ha paura e quindi ha maggior ragione. Però sono venuto qua oggi, perché è giusto venire, fare in presenza, con tutte le caute e fare. Allora chiediamo al ministro, che tra l'altro io ho visto anche, perché a Monfalcone è venuto anni fa, perché faceva, è andato, scusate se faccio un discorso un attimo politico, che è andato in articolo 1 e è venuto a trovare i suoi amici di Monfalcone. Però è una persona che, se supportata bene, lei è una regolizzante, che ha bisogno di essere supportata, perché è in mezzo a un mare magno, certamente penso che potrà incontrarci e far sì di avere dei funzionari ad hoc importanti che mettiamo sul tavolo e ci ragioniamo attorno e decidiamo un attimo, non di inventarci la luna, ma fare quei piccoli passaggi che nel documento lei ha visto sono scritti, gli diamo le priorità e otteniamo dei risultati. perché le famiglie adesso, poi, con la pandemia, sono andate male e vanno in povertà, specialmente le persone in stato vegetativo, quelli che hanno caso a queste persone qua, rischiano proprio la povertà. E quindi perché dobbiamo creare poveri su poveri, quando con un minimo di sforzo almeno qualcosa si può fare. assieme decideremo quali sono le cose più importanti, più immediate e quelle che ci posso fare, perché con la pandemia cambia tutto. Quello che si faceva prima, adesso bisogna tutto rimodularlo e rivederlo, perché con la pandemia ci dicono che bisogna convivere. Quindi io due cose ho chiesto, questa e questa. E poi il PNRR, che sto seguendo, forse è un momento per aiutare anche il mondo della disabilità, perché se le case di comunità vengono, che in Lombardia hanno 100.000 abitanti, quindi hanno bisogno dentro di avere i medici specialisti, di avere il sociale e anche le associazioni, a mio avviso. Noi chiediamo come associazioni di essere dentro le case di comunità, perché noi siamo un valore giunto e sociale siamo. Non è che non facciamo niente. Infatti con la pandemia il volontariato ha dimostrato che è importante, importante per quello che riesce a fare, non per voler fare cose, niente è diverso. E quindi queste case di comunità dovrebbero aiutare il nostro mondo affinché chi ha bisogno di tante cosette riesca a un certo punto a trovarle in questa case di comunità. Quindi io rinnovo l'invito da parte della Federazione che tutti gli amici con cui abbiamo lavorato fino ad oggi, stiamo lavorando, certamente condividono. Dateci almeno sto tavolo, sto registro, incominciamo a fare qualcosa. Perché se no, verremo giù ogni mese a tormentare chi conosciamo. All'inizio ci metteremo sotto la finestra, non vogliamo fare come non mi ricordo più il nome, quelli che si levano davanti ai pali della luce. Però noi non possiamo portare le caroselle davanti al Parlamento, perché non abbiamo gente in carosella. Non abbiamo gente che dobbiamo accompagnare, quindi portare davanti al Parlamento. Ma non vogliamo fare questo, non possiamo portare gli stati vegetativi davanti al Parlamento. Dobbiamo, a un certo punto, che voi cerchiate di capire, di cominciare a dialogare. E noi vi chiediamo questo. Grazie. Grazie. Gianpietro Salvi, Presidente della Regia delle Associazioni e di Genesis di San Pellegrino Terme. Grazie a tutti. Allora, le nostre associazioni si occupano di malati con gravi disabilità, con dei percorsi lunghissimi, e le loro famiglie, insieme a loro, soffrono. Per questo le nostre associazioni hanno sempre chiesto interventi urgenti, sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista dell'inserimento sul territorio. Per questo abbiamo lavorato, anche se siamo invisibili, però abbiamo lavorato molto, Paolo, perché abbiamo lavorato al Ministero, per la redazione del Libro Bianco, per le linee guida degli stati vegetativi. Abbiamo creato la prima conferenza di consenso dei familiari, evento storico, la carta di San Pellegrino dei diritti dei malati, che è stata tradotta anche in francese, la carta dei caregiver, la carta di Foligno per la collaborazione con le associazioni scientifiche, e adesso siamo alla seconda conferenza di consenso. in un periodo storico in cui il Covid l'ha fatta da padrone, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista delle risorse, le nostre associazioni hanno tenuto fede alla loro missione, che è quella di aiutare i pazienti in stato vegetativo con gravi cerebrovesioni acquisita, e le loro famiglie. la minima cosa che possiamo fare, che potete fare, è quella di recuperare il tavolo di lavoro, perché lì si potrà discutere di tutti i problemi che ognuno potrà dire sull'argomento. Grazie. Grazie a Gian Pietro Salvi. Ecco, noi siamo un solito gruppo di lavoro, un comitato promotore che ha portato avanti questa conferenza ormai da due anni, ha chiuso i lavori nella scorsa giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma a Bologna, patrocinata dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento Europeo, anche giornata europea. E quindi diciamo che è un documento, è un percorso che noi adesso portiamo avanti con una serie di iniziative sulle quali appunto, come diceva anche Paolo Fogar, vorremmo che il Ministero fosse vicino a noi, essendo noi, avendo noi in questa giuria, sia la FIS che la FAN e tanti altri professionisti molto qualificati di questo ambito. Adesso entriamo nel vivo della presentazione di questo documento. Lascio la parola a Roberto Piperno, un urologo-fisiato del Comitato Tecnico Scientifico. Buon pomeriggio a tutti. Sì, non è ovviamente facile riassumere in pochi minuti quello che è un percorso di lavoro estremamente complesso di più di due anni di impegno. Farò del mio meglio per provare a dare un quadro sintetico. Intanto, come dire, gli elementi un po' di storia. Il punto di partenza di tutto questo percorso è stato ben disegnato in precedenza, nel momento in cui è stata individuata la maggio 2011, 5 maggio 2011, in cui è stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni le linee guida per stato vegetativo, stato di coscienza minima. Da lì è iniziato un percorso di lavoro che si è concluso adesso, che ha avuto diverse puntate, diverse scadenze, che sono state via via citate. Diciamo che dal 5 febbraio del 2019 c'è stato l'incontro qui, in questa sede, nell'auditorium del Ministero della Salute, in cui sono stati individuati i gruppi di lavoro e, come dire, è stato lanciato il progetto della seconda conferenza di consenso dopo la prima conferenza di consenso del 6 ottobre 2012. Quindi, dal 2019, si è insediato anche il Comitato Tecnico Scientifico e ha iniziato i lavori nell'interlocuzione con i gruppi che si sono costituiti, individuando i temi su cui i gruppi avrebbero via via progressivamente lavorato e raffinandoli in qualche modo progressivamente. Il 10 ottobre 2020 c'è stato un primo momento di confronto seminariale in un webinar che si è tenuto ovviamente online su piattaforma Zoom e poi, dopodiché, il 9 e il 10 ottobre c'è stata la conclusione con la seconda conferenza di consenso ed oggi l'atto di presentazione del documento conclusivo. Credo che sia di qualche interesse, anche per fotografare il percorso che si è fatto, capire qual era la domanda da cui partì la prima conferenza di consenso e riporla oggi con la seconda, con la domanda che era al cuore della seconda conferenza di consenso. Il 6 ottobre 2012, nella prima conferenza di consenso, la domanda era, testualmente, quali i fattori di qualità nell'accreditamento dei servizi, nei percorsi di cura, nei modelli assistenziali, nella tutela dei diritti, nella corretta comunicazione tra sanitari, familiari e associazioni. Quindi il focus, il tema centrale, era quali sono i fattori di qualità in questi elementi un po' del modello assistenziale. La seconda conferenza di consenso metteva al centro, invece, della sua riflessione, una domanda così riformulata dall'emergenza, ai centri di riabilitazione, al ritorno nella comunità, quindi l'intero spettro del percorso, considerato, non soltanto la fase ospedaliera, ma anche la fase della restituzione a domicilio, della cronicità, nuovo tema molto centrale, quale modello mettere al centro della riflessione per unire parte clinica, associativa, istituzionale e politica per un progetto comune. Quindi diciamo che anche la domanda nel corso di questi più o meno dieci anni, dal 2012 al 2021, sono nove anni, però la domanda si è progressivamente ridefinita, riformulata. E su questo, ecco, si è costruito quel progetto di lavoro che poi ha dato luogo a otto gruppi tematici, dai diritti, tutte le persone, tutta la giuridica e normativa, il ruolo delle associazioni che rappresentano i familiari, il ruolo dei caregiver, il gruppo 3, con gli standard di qualità nelle strutture di accoglienza, dalla fase post-acuta, riabilitativa alla fase di cronicità, il gruppo 4, standard di qualità nel rientro a domicilio e programmi per la vita indipendente, il gruppo 5, reti e il modello dal coma alla comunità, coma to community. Il gruppo 6, introduce un tema nuovo, qual è il punto di vista degli stakeholders associativi rispetto al tema della ricerca, quindi come si pone il problema della ricerca, rispetto anche al mondo delle associazioni e le loro esigenze, il gruppo 7 individua percorsi di formazione, comunicazione e narrazione per l'affiancamento alla famiglia, infine il gruppo 8, l'ultimo gruppo, il ritorno al lavoro dopo cerebro regione acquisita e quindi quale modello di riabilitazione vocational che sia olistico e multidisciplinare. Allora diciamo che in questi 8 gruppi di lavoro che si sono insediati e che hanno lavorato per più di un anno, anche se con tutte le difficoltà del periodo Covid, ovviamente quindi con relazioni e comunicazioni molto virtualizzate più delle volte, però hanno collaborato 66 persone attivamente all'interno dei gruppi, quindi come dire, è stato un lavoro veramente collettivo molto importante. fra questi rappresentanti di 22 associazioni locali, fra questi 20 centri clinici avevano persone, professionisti appartenenti, a queste 66 persone composte di rappresentanti di associazioni, centri clinici, professionisti dei centri clinici di diverse figure professionali, quindi non solo neurologi e fisiatri, ma anche psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti, terapisti, educatori, assistenti sociali. Questo gruppo di persone ha prodotto, ha elaborato una serie di quesiti all'interno della domanda complessiva che era stata formulata, una serie di quesiti oggetto di consenso, oggetto potenziale di consenso, che erano 45 temi. Qui è iniziato il lavoro di scambio di comunicazione con il Comitato Tecnico Scientifico per via via razionalizzare questi temi, queste domande, e alla fine è stato ridotto il numero dei temi individuati in una prima fase a 21 temi finali. questi 21 temi sono stati quelli che sono stati oggetto del lavoro di elaborazione e di discussione. Quindi fra dicembre 2019 e settembre 2020, quindi quasi un anno di lavoro, sono stati individuati i temi finali e la modalità è stata quella della discussione fra gruppi di lavoro, fra i professionisti nei diversi gruppi di lavoro. Non solo sono stati ridotti da 45 a 21 i temi finali, ma sono stati anche individuati gli strumenti di lavoro per lavorare su questi temi. Quindi in alcuni casi è stata fatta un'opzione per l'analisi della letteratura scientifica, in altri casi è stata fatta un'opzione per l'analisi di documenti, leggi, norme, normative esistenti. In altri casi sono state attivate anche un certo numero importante delle survey, delle indagini e campionarie per andare a interpellare direttamente i portatori di interesse rispetto ai temi che venivano individuati attraverso dei questionari online a cui hanno stata dato una risposta anche in alcuni casi veramente molto importante dal punto di vista della partecipazione da parte dei professionisti, da parte dei familiari caregiver, da parte delle persone rappresentate nelle associazioni. Quindi sostanzialmente questo lavoro di elaborazione di sintesi ha portato a elaborare, quindi siamo sempre sul campo della metodologia di lavoro, un documento per ogni gruppo, un documento per ogni gruppo che verso il luglio 2021 è stato generalmente prodotto da quasi tutti i gruppi in cui venivano individuate le premesse e i temi, diciamo una sorta di introduzione della tematica affrontata, il razionale delle raccomandazioni e quali erano le raccomandazioni proposte alla giuria e anche corredate dei suggerimenti o delle proposte per rendere possibile l'implementazione delle raccomandazioni stesse. Quindi questo è il materiale che è stato fornito alla giuria per l'analisi successiva. Nel 9-10 ottobre 2021 si è tenuta la conferenza di consenso anche qui virtualmente su piattaforma Zoom. Nella prima giornata i coordinatori dei vari gruppi degli otto gruppi di lavoro hanno presentato il documento di sintesi finale che il loro gruppo aveva proposto. C'è stata la discussione molto partecipata, molto importante, molto attiva e nella seconda giornata invece la giuria ha lavorato a porte chiuse per elaborare il materiale disponibile anche alla luce della verbalizzazione della discussione che c'era stata in precedenza nella giornata precedente e quindi come dire produrre la sintesi delle raccomandazioni da consegnare. Sostanzialmente l'esito di tutto questo lavoro è stata la produzione di 59 raccomandazioni complessivamente articolate in sette aree tematiche quindi dal percorso assistenziale 5 raccomandazioni un percorso specifico per la fase acuta 10 raccomandazioni un percorso per la fase post-acuta 7 raccomandazioni un percorso nella fase degli esiti 12 raccomandazioni elemento importante quindi un numero importante di raccomandazioni nella fase di cronicità tema che era virtualmente poco rappresentato nella prima conferenza di consenso perché nella prima conferenza di consenso l'attenzione per ragioni abbastanza intuitive era molto concentrata sulla fase ospedaliera quello che avveniva in fase di riabilitazione ospedaliera quindi sulla comunicazione informazione e supporto alle famiglie altra tematica estremamente importante 9 raccomandazioni new entry ricerca 9 raccomandazioni associazioni e reti settima area tematica 7 raccomandazioni allora questo è un po' il risultato il risultato del percorso di lavoro e io credo le singole raccomandazioni ovviamente non abbiamo il tempo adesso di entrare nel merito di ogni raccomandazione in questa perché sarebbe sono nel documento sono nell'allegato del sito facilmente consultabili però l'elemento che è interessante a mio parere in qualche modo richiamare in conclusione di queste poche elementi come dire di narrazione intorno al percorso di lavoro che è stato fatto è che se si confronta la prima e la seconda conferenza di consenso emerge sì come diceva giustamente Paolo Fogart alcuni elementi di ripetitività cioè alcune cose che erano nella prima conferenza di consenso sono presenti anche nella seconda e questo in qualche modo dice quanto siano importanti e vissute o percepite come importanti questi elementi specifici però è anche leggibile un'evoluzione delle raccomandazioni fra la prima e la seconda conferenza di consenso e credo che in questa evoluzione ci sia un elemento di interesse molto forte perché si osserva come si è maturato la capacità di approfondire la proposta di articolarla di approfondirla di sostanziarla renderla come dire molto praticabile molto operativa oltre che solo come dire una raccomandazione di tipo per orazione quindi in qualche modo c'è stata un'evoluzione nella capacità di porre il tema nella capacità di leggere anche la problematicità delle situazioni e il confronto fra le raccomandazioni della prima e della seconda rivela anche come se gli stessi anche se molti temi tendono a essere presenti nella prima e nella seconda però in realtà la interpretazione dei temi è molto diversa fra la prima e la seconda almeno questa è l'impressione che io ho avuto riguardandole comparativamente cioè in maniera sinottica l'insieme delle due raccomandazioni ed è un tipo di interpretazione che credo sia estremamente interessante perché da un lato restituisce anche l'evoluzione il percorso il cammino fatto dal lavoro importante che le associazioni hanno prodotto in questi dieci anni e dai vari tappe di maturazione che ci sono state che hanno dato veramente forza al discorso adesso si tratta di far sì che questa forza si strutturi in maniera tale da presidiare la presenza rispetto a questi temi che non siano come dicevo oggi un messaggio in bottiglia che viene affidato al mare ma che diventi una piattaforma in qualche modo che possa essere in qualche modo perseguita ma anche controllata nella sua attuazione e quindi in qualche modo costruire gli strumenti che permettano questo una raccomandazione che si ripete nella prima conferenza di consenso ed è uguale della seconda conferenza di consenso è la raccomandazione di costituire un osservatorio nazionale poi che questo osservatorio sia proposto dal ministero sia proposto dalle associazioni realizzato dal ministero realizzato dalle associazioni realizzato congiuntamente come dire questo è materia di discussione però di fatto il fatto che venga ripetuto a distanza di dieci anni esattamente nello stesso modo vuol dire quanto sia come dire un passaggio chiave che purtroppo nel primo ciclo non è stato adeguatamente realizzato per seguito grazie a roberto piperno l'onorevole ci deve lasciare mi pare di capire ma credo vi ha dispinto anche voi no 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 abbiamo ancora un altro intervento della dottoressa Leonardo posso stare ancora a 5 minuti ah va bene allora il dottoressa Matilde Leonardi che ci parla di questa mozione sulle gravi televisioni acquisite che è stata presentata dall'onorevole Bologna che ha visto partecipare le nostre associazioni e Matilde ha un po' tirato le fila di questo percorso prego grazie mille grazie mille l'onorevole della tua presenza qui con noi fa presenza un ministero che in questi ultimi due anni è stato sicuramente continuo nel lato del ciclone grandi problemi ma il fatto che oggi qui siano presenti le associazioni di quella che è un gruppo se vogliamo un piccolo di pazienti rispetto ai grandi numeri che siamo abitati a sentire non vuol dire che ci sia meno attenzione essere qui oggi per noi è segno di un'attenzione politica perché questa è una sede politica all'interno della quale ci sono delle cose da chiedere che non sono richieste non strutturate il documento di consenso ci permette di avere una lista di richieste strutturate che possono essere usate come indicatori dell'attenzione che un governo pone verso i suoi soggetti più fragili abbiamo sentito prima anche da lei l'Italia è uno dei primi paesi al mondo che nel 2009 ha ratificato la convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità e questo perché siamo stati attenti a introdurre anche il concetto di disabilità che dice che la disabilità non è la malattia che hai ma è la malattia che hai nell'ambiente in cui sei e se l'ambiente è barriera la tua disabilità aumenta ecco noi siamo qui oggi perché questo documento di consenso non vuole negare la gravità di questi gravissimi disabili ma vuole mostrare che è possibile diminuire la disabilità di questi gravissimi disabili agendo su tutti quelli che sono gli elementi ambientali attorno la famiglia la cura la casa il documento delle associazioni nasce in una maniera bottom up ma parallelamente al documento e alla consensus conference che ha visto coinvolti tantissimi stakeholders assolutamente rilevanti cittadini a nome di persone che non potevano essere presenti ma che non avevano meno rappresentanza politica sociale all'interno del nostro paese contemporaneamente a questo dicevo tutte le associazioni che hanno costituito il consensus hanno con le associazioni scientifiche collaborato a scrivere una mozione parlamentare una mozione parlamentare che è stata approvata e che ha avuto una roadmap molto particolare da gennaio a settembre è stata scritta utilizzando quelle che erano le priorità fattibili all'interno degli strettissimi vincoli che ci erano dati dalla legge per la non autosufficienza la legge per il caregiver la approvazione che sembrava molto prossima del PNRR con la riforma delle strutture sociosanitarie sul territorio come entravamo dentro lì con la nostra mozione abbiamo scritto questa mozione avvalendoci anche di giuristi di politici per cercare di capire come questa mozione potesse vincolare il governo e per arrivare a questo passaggio era necessario che fosse approvata ed è stata approvata il 19 ottobre 2021 all'unanimità il Parlamento italiano ha approvato questa mozione che vincola il governo a fare che cosa beh all'interno della situazione attuale vincolare il governo è complesso perché il governo sembra vincolato da priorità emergenti invece questa è una priorità che dà il segno anche della civiltà del nostro paese credo che l'Italia meriti di essere un paese molto civile noi abbiamo un sistema sanitario nazionale nessuno dei nostri paesi nessuno dei nostri pazienti al contrario della maggioranza dei pazienti dei paesi vicini di casa che dopo un anno se sono in stato vegetativo sono terminati perché non costituiscono quello che rappresenta un paziente di cui prendersi cura ma un paziente da terminare noi non li terminiamo i pazienti noi siamo qui oggi a dire che questi pazienti meritano cure la situazione attuale ci ha messo davanti alla fragilità del sistema sanitario ma ci ha anche fatto capire che all'interno delle leggi che ci sono questa mozione poteva vincolare il governo a fare delle azioni concrete anche per i nostri familiari i nostri pazienti è ovvio che ci siano lacune enormi nei percorsi di cure presi in carico non soltanto per i nostri pazienti ma se non siamo in grado di occuparci di 50.000 pazienti mi chiedo come siamo in grado di occuparci del milione e centomila malati di alzheimer che sono presenti in questo paese cioè se non siamo in grado di fare un percorso di cura decente per i nostri 25.000 30.000 pazienti certamente non siamo in grado di farlo per quel milione e centomila pazienti non autosufficienti con la malattia di alzheimer e faccio solo uno degli esempi che meriterebbero sicuramente attenzione tanto quanto lo meritano i nostri pazienti e quindi la drammatizzazione della pandemia che ha avuto enormi conseguenze non solo sulle famiglie ma anche sulle relazioni noi abbiamo dimostrato scientificamente in tutte le nostre associazioni quanto sia importante la relazione che il caregiver ha col familiare purtroppo la separazione di cui abbiamo in qualche modo avuto casi drammatici testimonianze drammatici ha fatto sì che ci fosse una esacerbazione di certe situazioni cliniche noi abbiamo visto che durante la pandemia era difficile ma noi abbiamo anche pensato e quando dico noi parlo di un grande gruppo di lavoro che è quello della Consensus oltre a tutte le società scientifiche che appoggiano questa mozione parlamentare abbiamo chiesto degli impegni e il governo con grandissimo piacere grandissimo senso democratico grandissimo senso sociale il 19 ottobre l'ha approvata questa mozione quindi vuol dire che in qualche modo chi ci rappresenta in Parlamento ha detto sì avete ragione voi cittadini siete arrivati fino qua e in questo paese democratico questa richiesta non è stata non ascoltata noi abbiamo chiesto che cosa nella mozione più o meno le cose che sono state espresse in maniera molto granulata e molto dettagliata all'interno della Consensus vincolando il governo su alcune cose che in qualche modo molto brevemente dico che sono in linea totale sulle conclusioni della Consensus trovare risposte nella propria regione beh sembra una chimera però io credo che si debba cominciare da un certo tipo di organizzazione territoriale che possa in qualche modo dare delle risposte dove uno abita sostenere la ricerca è stato già detto è la grande novità della Consensus che noi assolutamente appoggiamo trovare attraverso i fondi disponibili nel fondo della non autosufficienza nel fondo dei caregiver quale parte di questi fondi possa supportare le famiglie di questi non autosufficienti che purtroppo talora non entrano all'interno di nessuna categoria e quindi rimangono orfani di una legislazione di appoggio e come in qualche modo il governo possa garantire dei percorsi di cure presi in carico dovunque noi pensiamo che il Ministero della Salute sia rispetto alla risposta che ci aspettiamo un mediatore attivo e capace di darci le risposte che vengono in qualche modo portate avanti cioè qual è la risposta del Ministero della Salute alla domanda di servizi di cura dal Coma to Community qual è l'interazione che il Ministero della Salute si propone con gli altri Ministeri il Ministero della Disabilità e perché no il Ministero delle Finanze il Ministero del Lavoro come possono questi Ministeri essere vincolati rispetto a garantire quanto viene chiesto oggi come puoi garantire dal livello centrale questa è anche una delle contraddizioni della legge sulla disabilità attualmente in fase di definizione dei decreti attuativi che vincola sulla legge sulla disabilità il governo a prendersi carico delle persone sul territorio senza specificare che però sul territorio sono i locali i comuni piuttosto che le regioni e quindi certi passaggi che non sono chiari e non sono non solo chiari qui non sono chiari in generali perché richiedono un'ulteriore riflessione su cui credo ci debba essere un confronto un po' più ampio di quello che attualmente è ancora in corso qual è l'informazione di cui c'è bisogno si parla di questi pazienti normalmente nei casi scandalistici si parla di questi pazienti quando si vuole sospendere non ho mai sentito una trasmissione scandalistica sulla richiesta di avere maggiore attenzione in genere le sento quando si parla di interrompere credo che qui si debba creare in qualche modo lo scandalo della cura che è uno scandalo che vale per i nostri pazienti in un periodo lungo purtroppo i nostri pazienti non muoiono più il problema nasce anche il fatto che siamo diventati più bravi in Italia rispetto alla media internazionale le nostre riabilitazioni fa cose incredibili in altri paesi ribadisco sono stata recentemente una conferenza con un collega americano un olandese e una collega inglese e il problema per loro era come è eticamente giusto sospendere questi pazienti in stato vegetativo l'americano diceva dopo dieci settimane il paziente di riabilitazione dall'evento acuto il paziente viene mandato a casa e alla domanda viene mandato a casa ma noi dopo dieci settimane siamo all'inizio della riabilitazione lui diceva beh certo chi ha i soldi potrà continuare la riabilitazione chi non ha i soldi morirà ora noi non siamo in questa situazione noi abbiamo il privilegio di poter essere qui in questa sede di rappresentanza della nostra cittadinanza a chiedere che ciò che è possibile venga fatto non stiamo chiedendo le cose impossibili la mozione ci dice che noi stiamo chiedendo cose possibili ed è possibile anche attraverso la tecnologia la telemedicina la telereabilitazione raggiungere anche quelli che sono lontani oggi in qualche modo la mozione che è stata approvata a ottobre viene risollecitata perché abbiamo bisogno al ministero di qualcuno che diventi il punto di riferimento per incardinare ciò che è richiesto dalla mozione e dal governo all'interno dei passi e delle procedure che sono necessarie il 22 marzo saremo alla camera il 22 marzo il World Coma Day nella sala conferenza stampa della Camera dei Deputati l'onorevole Fabiola Bologna che ringrazio perché come lei dimostra una sensibilità che riunisce le tre cose che ci hanno portato qui il pathos l'ethos e il logos la passione l'etica e la capacità di ragionamento noi siamo venuti qui utilizzando pathos ethos e logos perché solo così si riescono a fare le cose insieme la pandemia ce l'ha insegnato insieme insieme faremo anche questo percorso ringraziandolo per essere qui con noi perché solo insieme noi crediamo sia possibile dare una risposta a tante domande che sono sul tavolo e alle quali insieme noi stiamo cercando da tempo di dare una risposta grazie grazie Matise Leonardi onorevole Zampa se vuole chiudere lei rispetto a tutta questa mole di richieste e sollecitazioni che vengono da parte nostra no non è una grande mole di richieste sono una serie di richieste di cui ovviamente io mi farò debitamente carico e le trasmetterò alle persone e a chi in questa amministrazione dovrà metterle in ordine di priorità a cominciare dalla richiesta del tavolo che mi sembra diciamo sia il primo punto dal quale partire perché se non ci si siede intorno a un tavolo insieme poi si vedrà il resto insomma ne avete fatte mi sembra di significative tavolo osservatorio e registro il tavolo è il primo di questi passaggi quindi ovviamente sarà mia cura scrivere una nota per gli uffici competenti e poi inoltrarla anche perché appunto sono qui rappresentanza del ministro quindi informerò anche il ministro degli esiti di questo incontro perciò ribadisco il mio ringraziamento anche davvero per quello che fate mettendo tanta parte della vostra vita e del vostro impegno in questa causa così delicata per molti aspetti che ha a che fare con la vita e quindi con la vita e con la morte perciò è davvero diciamo centrale vi ringrazio molto e adesso io mi fermo con il dottor Foga perché mi mi aveva chiesto un incontro e buon rientro a casa grazie a presto bene ringraziamo il ministero della salute per averci dato l'auditorium lo streaming e sappiate che il documento è su www seconda conferenza consenso associazioni.it grazie a tutti e arrivederci